Ancora dall'estero l'attuale presidente, anzi ex presidente della Weber Calcio spagnola Rubiales è stato arrestato dalla Guardia Civil spagnola che lo ha prelevato all'aeroporto di Barajas proveniente dalla Repubblica Dominicana. Salito con gli agenti a bordo di un furgone potrebbe prestare e dare dichiarazioni davanti al giudice istruttore nell'inchiesta sui contratti chiusi dalla Weber Calcio negli ultimi cinque anni durante la sua presidenza. Ricordiamo che Rubiales è stato dato e coinvolto anche in un processo per molestie sessuali quando aveva baciato sulle labbra la capitana della nazionale spagnola. Da lì c'era stato un giro di vite che aveva coinvolto l'intera nazionale con le compagnie di squadra che si sono schierate con la capitana e le dimissioni del tecnico spagnolo che nello stesso Rubiales aveva poi giganteggiato su questa vicenda dicendo sostanzialmente che la cosa era consensiente ma i parti hanno appurato che non è stato così.